Tu sei morto e risorto, Signore. Perdonarci la libertà e la gioia di saperci giustificati davanti a Te. Eppure spesso abbiamo paura non solo del Tuo giudizio, ma anche di quello della gente. Perciò ti preghiamo quando la nostra fede vacilla, perdona la nostra ansietà e fatti sentire vicino a noi. Amen.